Franco Graveden, tecnico del Villazzano, un buon primo tempo, poi nel secondo tempo forse vi siete un po' adagiati troppo subendo il ritorno del Drog che ha fatto valere tutta la sua esperienza. Sicuramente avevamo di fronte una squadra di qualità, una squadra che merita il primo posto in classifica, c'è un certo ramarico perché abbiamo creato almeno tre situazioni importanti che potevano permettere di andare sul 2-0 e l'abbiamo sbagliato in maniera abbastanza superficiale e lì è la differenza tra la squadra e l'altra, il Drog è riuscito a sfruttare e capitalizzare bene tutte le occasioni, bravi a loro, meritano il primo posto in classifica, ci ramarichiamo ma testa alta e torniamo a lavorare bene come ha fatto fino adesso e gli risultati arriveranno di sicuro. Rimane la soddisfazione per aver messo in difficoltà la prima squadra del campionato e per un avvio di giorni di ritorno sicuramente positivo, arrivate radici da 5 risultati utili di fila. Sì, i ragazzi stanno lavorando bene, c'è grande voglia, grande entusiasmo, grande voglia di far bene, la crescita è costante e continua, lo considero un piccolo incidente percorso che ci può stare contro la prima classifica, adesso però arriva una serie di partite che sicuramente sono alla nostra portata e vediamo se la crescita è reale o se è stato solo per l'entusiasmo iniziale, io sono convinto che c'è la crescita e ci sarà e sarà sempre più importante.